Olga e Lorenzo ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Italia che si svolgerà sul circuito di San Marino e Rimini domenica alle 14.13 appuntamento delle moto mondiali 2015. Il tempo fatto registrare dallo spagnolo della Yamaha è di 1.3246. Accanto a lui partirà Marc Marquez, lo spagnolo della Honda che ha ormai definitivamente tramontato le speranze di ridiventare campione. Mentre in terza posizione partirà Valentino Rossi con Naya Amaha 1.32358, proprio il dottore di Tavudia in classifica generale e primo e a 12 punti di vantaggio nei confronti dell'Iberico. In chiusura di questo appuntamento c'è una notizia dell'ultima ora appena giunta in redazione. La partita Sampdoria-Bologna, valida per la terza giornata del campionato di Serie A che si doveva giocare oggi pomeriggio alle 15, è stata rinviata probabilmente a domani sera alle 20.45 a causa di un'allerta meteo che è stata diramata dalla protezione civile questa mattina.